Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale sportivo la cui apertura è dedicata al calcio. Nuovo test amichevole domani per l'Arezzo. Gli Amaranto scendono in campo contro il Gubbio. Calcio d'inizio alle 17 allo stadio Barbetti. È un allenamento congiunto quello che domenica alle 17 vede impegnate Arezzo e Gubbio allo stadio Barbetti. La partita si giocherà a porte chiuse. Per la squadra allenata da Mariotti si tratta del secondo test contro altrettante avversarie di Lega Pro. Il primo ha visto Gli Amaranto uscire a testa alta dal confronto con la Viterbese. Il terzo, quello di venerdì 13 agosto, sarà quello con il Grosseto. In mezzo, quello di domani a Gubbio. Le tre amichevoli, anzi giusto dire allenamenti congiunti, sono stati organizzati dalle rispettive società che hanno invitato l'Arezzo a condividere questa fase della preparazione. Nei prossimi giorni la società Amaranto ufficializzerà nuove amichevoli che si terranno in città. Mariotti dunque va alla ricerca di conferme, anche se è inevitabile che il livello di preparazione della squadra possa farla andare incontro ad alti e bassi. D'altronde è inevitabile in questo periodo della stagione. Il tecnico, che dopo Viterbo si è detto molto soddisfatto del modo con cui i giocatori seguono il suo lavoro, valuterà le condizioni di forma dei nuovi arrivati. Un Arezzo attorno al quale vi è una certa fiducia. È chiaro che l'obiettivo di questa stagione non ha bisogno di essere ricordato. La Serie D deve essere solo una parentesi e di questo ne sono consapevoli tutti. Amichevole di lusso, domani per il Montevarchi la squadra di Malotti è impegnata allo Stadio Franchi contro la Fiorentina. Calcio d'inizio alle ore 11. Secondo amichevole precampionato per il Montevarchi, che domenica mattina alle 11 allo Stadio Franchi di Firenze si misurerà con la Fiorentina. Il risultato, come è naturale, non conterà molto. Da questa sfida lo staff tecnico rosso-blu si attende indicazioni preziose dai singoli e dal gruppo, sia sul piano fisico che sul piano tattico. Indicazioni che saranno utili per i prossimi giorni, quando la squadra riprenderà gli allenamenti. La prossima settimana è prevista una doppia seduta ogni giorno, almeno fino a ferragosto, quando prenderà il via la settimana che porterà i valdarnesi al debutto in Coppa Italia. L'unendì 9 agosto alle 19 presso la sede della Rega Pro a Firenze saranno svelati i calendari per il campionato 2021-2022. Conosceremo quindi quale sarà la stagione dei rosso-blu. Il pallone ricorda che quasi 90 anni fa, il 10 settembre del 31, si giocò allo stadio di Campodimarte un amichevole tra i due club. Fu la prima partita giocata allo stadio, prima intitolata al fascista Bertha, negli anni poi diventato stadio Artemio Franchi, anche se l'inaugurazione ufficiale è quella del 13 settembre del 1931 contro l'Admira Vienna. L'altra squadra del Valdarno, la San Giovannese, verso la nuova stagione, gli azzurri di mister Iacobelli tornano in campo per la preparazione. Riparte oggi una nuova avventura per la prossima stagione. Intanto, Presidente, le chiedo quali sono ovviamente anche le emozioni, le sensazioni, considerando l'anno difficoltoso anche da un punto di vista sportivo-sanitario che ci lasciamo alle spalle. Ricominciare è sempre bello, tutte le volte sembra scontato ma è sempre emozionante riprendere la preparazione perché inizia una nuova stagione. Quest'anno ha maggior ragione perché veniamo da un anno e mezzo abbondante e difficile per il problema del Covid e speriamo che quest'anno sia, non solo per quanto riguarda lo sport, ma per tutti un anno un pochino più tranquillo. La società punta sui giovani anche per questa stagione, ci sono ovviamente dei punti di riferimento con maggiore esperienza, però è questa la linea tracciata. Il nostro punto di forza da sempre è quello di lanciare giovani e di far leva sul gruppo più che sulle prime donne come giocatori. Mister Iacobelli oggi si riparte con un agosto piuttosto intenso, il calendario è serrato. Intanto le chiedo se la sua riconferma può essere considerata anche come un premio per la stagione passata. Ci siamo trovati, io sto bene, loro mi apprezzano, io apprezzo questa città, questa società, quindi anche per dare un po' di continuità al lavoro degli altri anni. Obiettivamente anche rispetto all'anno scorso abbiamo perso dei ragazzi interessanti, che noi abbiamo perso tanti 99 che l'anno scorso ci hanno fatto benissimo. Vedi Lunghi, Vedi Barellini, Vedi Ceccuzzi, abbiamo perso Gerardini, un altro buon giocatore, Nicola, Falomi, un po' di roba, però abbiamo perso anche dei giocatori importanti. Quindi vedremo, bisogna valutare tante cose, bisogna valutare il girone dove ci metteranno e tante altre situazioni. Per quanto riguarda il campionato di Serie D, la presenza quest'anno dell'Arezzo può essere uno stimolo in più? È andato via in Montevarchi però, no, a parte gli scherzi, sì, come Blasone, è una società importante, come deve avere il Siena. Io sono convinto se dovessimo andare nello stesso giorno dell'Arezzo, credo di sì, ma l'Arezzo farà un campionato a parte. Torniamo a parlare dell'Arezzo. Tre anni fa ci lasciava Narciso Terziani. Per i tifosi dell'Arezzo era il presidente, lo vogliamo ricordare con queste immagini. Sono passati tre anni dalla sua scomparsa, ma il suo ricordo rimane e rimarrà. Narciso Terziani è stato per i tifosi a Maranto il presidente, quello con la bacheca più ricca di successi nella storia dell'Arezzo. Assunse la guida a Maranto nel 1979, la sua presidenza sarà ricordata per i successi con Antonio Valentino Angelillo in panchina. La conquista della Coppa Italia 80-81 e la vittoria nel campionato di Serie C con la promozione tra i cadetti nell'81-82. Un personaggio che ha segnato un'epoca, conosciuto anche lontano da Arezzo, in un calcio che aveva ancora una dimensione diversa, meno legata alle strette logiche del mercato. Lo ricordano tutti con affetto per quello che ha dato all'Arezzo e alla città. E lo ricordano soprattutto i suoi ragazzi, coloro che furono protagonisti di quegli anni e di quei successi. Lo rammentano come un padre e come un presidente con la P maiuscola, ed è lo stesso ricordo che conservano coloro che hanno vissuto quei momenti e lo hanno conosciuto. Adesso i motori, motori accesi per il quindicesimo rally Città di Arezzo, Crete, Senesi e Valtiberina, grande attesa per l'esito finale di questa manifestazione. Motori già accesi per il grande spettacolo del quindicesimo rally Città di Arezzo, Crete, Senesi e Valtiberina, proposto da Valtiberina Motorsport per questo fine settimana. La competizione che in questo weekend porta le auto a solcare le strade dell'Aretino e del Senese è già un successo prima di accendere i motori. Il computo delle adesioni è arrivato infatti alla cifra tripla, toccando i 105 iscritti in totale. Dunque, la quarta prova del campionato italiano Rally Terra conferma la vitalità delle corse su strada bianca, in questo caso una gara molto articolata e che può contare su diverse titolazioni. Sono otto le prove speciali per un totale di 83 chilometri e 970 metri, sui circa 557 e 890 dell'intero tracciato. La prima parte di gara è interessato l'Alpe di Poti, la seconda invece sarà diretta verso il Senese. Le prove speciali sono quelle classiche, le stesse dell'ultimo passato, lievemente riviste. Percorsi già consegnati da tempo alla storia dei rally, che è stato possibile far tornare grazie alla collaborazione con i comuni di Arezzo, Asciano e Monteroni. La conclusione in programma domani, domenica alle 17.30. Un impegno notevole per gli organizzatori, che hanno dovuto fare fronte alle difficoltà oggettive causate dall'attuale emergenza. Un'ultima notizia di Palacanestro, nuova conferma in casa Amen Scuola Vasca e Terezzo. Carlo Provenzal calcherà il parchè del Palasport Estra anche per la prossima stagione. Provenzal è conosciuto nel vivaio della Scuola Vasca e Terezzo, con cui è esordito anche in Serie B, è cresciuto in questo vivaio. Dopo una parentesi a Valdisieve, la sua carriera si è sviluppata in maglia amaranto, con cui ha conquistato la Serie C Gold nella stagione 2018-19. La prossima sarà la sua settima consecutiva nella prima squadra a retina. Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale sportivo. Grazie della cortesa attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi. Grazie per la visione e buon ascolto con i nostri programmi.